Buona serata gentili telespedatori di Teleantenna, eccoci con l'edizione di Trieste del nostro telegiornale che apriamo subito con la notizia sul flusso di clandestini che starebbe per arrivare proprio in Friuli Venezia Giulia, personale comunque che verrebbe trasferito invece ad Imperia nonostante appunto queste problematiche. Allora sentiamo che cosa sta accadendo nel servizio di apertura del telegiornale. Mentre la questura di Trieste faticano un poco a reperire pur essendo un numero esiguo il personale da inviare ad Imperia per dare il cambio ai colleghi impegnati alle esigenze connesse all'umento del flusso migratorio dei cittadini extracomunitari alla confine italo-francese, qui a Trieste vengono rintracciati 79 immigrati profughi clandestini, un'ulteriore prova che quanto paventato negli scorsi mesi proprio dal SAP era più che fondato. Avevamo previsto un incremento di passaggi nei mesi estivi della nostra provincia grazie alla crima favorevole alle allarmanti segnalazioni che oggi indicano più di 100 o 1.000 profughi pronti a percorrere la rotta balcanica per fare ingresso in Italia e in Europa. Un numero piuttosto elevato di persone è quello individuato oggi mentre non si conosce il numero di chi non è stato individuato dalle forze di polizia. Molti di questi intercettati non provengono da zone di guerra o direttamente coinvolte nei conflitti. Ancora una volta ad intervenire nelle operazioni di identificazione anche la polizia di frontiera, oggetto nei mesi scorsi di un progetto da parte del Dipartimento che vorrebbe la chiusura del settore di polizia di frontiera di Trieste. Quello che coordina i controlli di retrovalico e conduce le indagini sull'immigrazione clandestina è passare al questore il controllo delle sottosezioni di Rabuiese, Fernetti e Villa Upicina, che oggi svolgono funzioni di retrovalico e che potrebbero, nel caso passassi il progetto, essere utilizzati anche per altre funzioni. Basta aggregare personale in altre città per un'esigenza che abbiamo in casa. Si comincia ad affrontare il problema per quello che è anche a Trieste. Il SAP chiede che cessi con effetto immediato ogni aggregazione del personale impegnato in altre province e si provvede piuttosto ad aggregare a Trieste ulteriori forze di polizia per fronteggiare un'emergenza ormai evidente a tutti. La cronaca ci porta a parlare di un furto, un bottino insolito, quello che è stato recuperato dal personale della Polizia di Stato che ha denunciato per furto un cittadino romeno, NS, le sue iniziali neomaggiorenne oltre che senza fissa dimora. Il giovane ha prelevato dagli scaffali del supermercato PAM di Viale Campi e Lisi 10 confezioni di caffè per un valore di circa 60 euro. Le ha nascoste all'interno di una borsa che teneva a tracolla. A notarlo insospettita è stata una dipendente e quando il ragazzo ha oltrepassato le casse senza pagare è stato invitato a fermarsi e a mostrare quanto prelevato dagli scaffali poco prima. Il giovane ha cercato con insistenza di allontanarsi ma il direttore commerciale del supermercato ha telefonato al 113 che è intervenuto di lì a poco. Nella notte invece il personale della Polizia di Stato ha restituito a legittimo proprietario un ciclomotore Piaggio provente di furto. Il mezzo con una persona a bordo era stato notato in sella appunto, era stato notato in città da un equipaggio della squadra volante che era intenta a svolgere un servizio del controllo del territorio. Alla vista degli agenti il guidatore si è dato la fuga abbandonando il mezzo nei pressi di via Rigutti. Dagli accertamenti effettuati il ciclomotore è così il risultato rubato ed è stato restituito al legittimo proprietario. E ora cambiamo decisamente pagina, sono in arrivo 22 milioni dal Cipe per progetti ferroviari. Sentiamo il servizio. Si tratta del più grande intervento ferroviario a servizio del porto di Trieste dalla realizzazione della galleria di cintura, i cui ultimi lavori risalgono a 35 anni fa. Lo ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Seracchiani, dando notizia dell'approvazione da parte del Cipe del progetto che prevede interventi ferroviari per il potenziamento della stazione di Trieste Campo Marzio. La signazione è deliberata pari a 22 milioni di euro e a valere sul comma 4 dell'articolo D13 del DL 145 del 2013 e si aggiunge ai 28 milioni euro già nella disponibilità del contratto di programma di rete ferroviaria italiana per un totale quindi di 50 milioni, insomma che corrisponde al fabbisogno finanziario per la completa copertura del progetto. Il progetto diretto ferroviario italiana prevede la messa a modulo dei binari con allungamento fino a 750 metri in conformità con i core corridors previsti dell'Unione Europea e il potenziamento del collegamento con i moli. Si faranno inoltre interventi sul sedime ferroviario che consentiranno un efficientamento di tutti gli arrivi e le partenze a Campo Marzio, opere di elettrificazione a beneficio della manovra unica ferroviaria e quindi una riduzione complessiva dei tempi e dei costi a vantaggio della competitività dello scalo. Un intervento ha sottolineato ancora Seracchiani che è stato fortemente voluto e coordinato dalla Legione raccordando a questo fine diversi soggetti dall'autorità portuale di Trieste ai terminalisti operanti nello scalo alla stessa rete ferroviaria italiana. Torniamo sulla vicenda della ferriera di Servola. La Presidente Seracchiani è stata nominata commissario dell'area di crisi proprio di Trieste e questo permetterà in qualche modo di intervenire in emergenza. Sentiamo appunto le novità. La Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Deborah Seracchiani è stata nominata oggi a Roma con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissario straordinario per l'attuazione degli interventi della crisi industriale complessa di Trieste. Il decreto è stato firmato a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti. La nomina conferisce i poteri di realizzazione dei lavori di bonifica del sito della ferriera di Servola dichiarati urgenti. Il commissario potrà costruire una struttura commissariale a supporto senza oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione avvalendosi delle risorse professionali già presenti. Contestualmente oggi è stato sottoscritto l'accordo di programma quadro tra l'Agenzia per la coesione e il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dell'Ambiente è la Regione Friuli-Venezia-Giulia, con il quale si disciplina l'erogazione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di bonifica emessa in sicurezza dell'area industriale di Servola. L'importo complessivo previsto ammonta a 41,5 milioni di euro, di cui 26,1 già a disposizione della Regione e 14,5 destinati dalla Cipe a valere sulla Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. L'accordo di programma quadro è stato sottoscritto sempre a Palazzo Chigi da Maria Ludovica Agro per l'Agenzia per la coesione territoriale, dal direttore generale vicario e ingegnere Francesco Gigliani per il Ministero dell'Ambiente, dalla direttore generale dottora Stefano Firpo per il Ministero dello Sviluppo Economico, dal direttore centrale dell'Ambiente Dario Danese per la Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia. La nomina di oggi unitamente alla sottoscrizione dell'accordo di programma a quadro rappresenta l'ultima tappa di un percorso iniziato nel gennaio 2014 con la sottoscrizione di un accordo di programma per la messa in sicurezza e reindustrializzazione del sito industriale della Ferriera, sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture e dei Trasporti e del lavoro da Invitalia, nonché dalla Regione e dall'Autorità Portuale, dalla provincia e dal Comune di Trieste. Successivamente, dopo la manifestazione di interesse da parte del gruppo Arredi verso lo stabilimento siderurgico, è intervenuto un altro accordo di programma, cui la Regione e l'Autorità Portuale di Trieste hanno aderito dando l'intesa tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e la NUCO, Siderurgica Triestina SRL, che prevedeva la partecipazione alla bonifica e cura di Siderurgica Triestina, la reindustrializzazione dell'area e la messa in sicurezza dei suoi a carico del pubblico, attraverso il barrilamento fisico dell'area e mediante la realizzazione di un sistema di depurazione delle acque di falda. Nell'ambito degli interventi programmati, sarà Invitalia la società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico da questo indicata, che collaborerà alla soluzione degli aspetti progettuali e seguirà le esecuzioni delle opere, fino al collaudo con le stesse. Con questo accordo di programma, ha commentato Saracchiani, si entra finalmente nella fase attuativa degli interventi pubblici al risanamento e tutela dell'ambiente e quindi anche della salute dei lavoratori e dei cittadini. Da quanto è stato perimetrato il sito di interesse nazionale di Trieste nel 2001, questo è il primo intervento che prevede risorse finanziarie dello Stato al fine del risanamento e dello sviluppo industriale. Avvertò la responsabilità di portare a termine un intervento tanto atteso da Trieste, dal suo tessuto produttivo e da tanti cittadini. Ringrazio il Governo che nell'ultimo anno ha dato una decisiva accelerazione all'attuazione del progetto integrato, che ha concluso Saracchiani, vuole coniugare ambiente e produzione pubblico e privato. Una valutazione sottolineata anche dal sottosegretario De Vincenti, il quale ha definito il progetto un intervento a 360 gradi che, oltre a consentire il recupero ambientale della zona, ha come obiettivo la ripartenza economica ed occupazionale dell'impianto ARC Com PPD.